Il progetto Alba Mediterraneo 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 La riuscita mi sembra che sia stata ottima e ha permesso a tanti giovani di avvicinarsi al mare che spesso viene visto solo come un momento di divertimento e invece andare per mare comporta rispetto di tante regole e rispetto di tanti comportamenti che permettono un'andata serena per mare il progetto Alba Mediterraneo il progetto Alba Mediterraneo